Bella Ragraz! Non si tratta di un vero e proprio video unboxing perché stiamo parlando di un singolo prodotto che viene presentato in due gusti. Però per rendere il video più simile unboxing possibile ho chiesto a una persona di fiducia di prendermi i due gusti della famosa acqua proteica. Io ho cercato di resistere il più possibile alla curiosità, non le ho guardate, in modo da poterli analizzare insieme a voi, proprio come se io fossi al supermercato e per la prima volta avessi tra le mani la famosa acqua proteica. Allora, vediamo un attimino. Allora, non si legge chiaramente la mano, ma non è un video sponsorizzato, assolutamente, semplicemente questa è l'azienda che la produce, quindi di questa azienda me l'hanno portata. Allora, vediamo. Acqua con proteine. 15 grammi di proteine, quindi si vanta di 15 grammi di proteine. Ovviamente, avendo una dose così alta di proteine, può utilizzare tutti i claims sulla salute riferiti alle proteine possibili, quindi può fare riferimento al mantenimento e alla crescita muscolare, può fare riferimento alla salute delle ossa e così via. Allora, proteine più zinco. Vediamo dietro. Proteine, infatti, proteine, le proteine che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare, zinco, lo zinco contribuisce alla normale sintesi proteica. Potevano utilizzare qualunque claim sullo zinco, perché sono vari, ma chiaramente per dare più risalto all'aspetto relativo alla quantità proteica, hanno optato, quindi per il claim più mirato possibile. E non ci dice, ah, eccole qui, le proteine sono collagene idrolizzato, ok, quindi comunque sì, anche se hanno utilizzato proteine che hanno utilizzato il collagene idrolizzato, hanno voluto comunque strizzare più l'occhio all'aspetto più calamita, sicuramente abbracciare anche i gusti degli sportivi. Un po' innegabili che il mercato venga pilotato dalle tendenze del periodo. In questo periodo spiattellare i claims nutrizionali sulle proteine, parlare di proteine, ha sicuramente una grande presa sul pubblico. Faccio questa piccola precisazione perché probabilmente gli sportivi, magari anche qualcuno che ha fatto i famosi dissing contro questa benedetta acqua proteica, si sarà lamentato del fatto che magari non fossero proteine whey o comunque un tipo di proteina più completa, diciamo. Però è anche vero che il collagene rappresenta il 30% delle proteine totali del nostro corpo e che normalmente già dai 30 anni, qualche fonte riporta 25, si inizia ad avere una diminuita produzione fisiologica, quindi ci sta comunque incrementare quotidianamente l'utilizzo di collagene. È vero che sicuramente l'acqua non vuole fare presa sull'aspetto beauty del collagene, perché sennò avrebbero puntato anche sulla vitamina C, visto che la vitamina C di fatto vanta 6 claims ufficiali, quindi non sembrerebbe, ma proprio serve in merito al collagene, quindi il collagene per i vasi sanguigni, denti, pelle, ossa, gengive e così via. Hanno preferito rimanere, come dicevo prima, sull'aspetto strettamente legato alla crescita e massa muscolare. Vediamo la tabella nutrizionale, sì effettivamente 0000 vanta giusto la quantità di proteine, che nello specifico sono 5,2 assumendo tutta la bottiglietta, e sì infatti ritorna perché anche le kilocalorie sono 63 kilocalorie in totale, chiaramente il calcolo è facile, nel senso che secondo i calcoli di conversione abbiamo 15, fondamentalmente basta fare 15 per 4, insomma e ci siamo. Allora sale, una quantità minuscola, vediamo zinco ecco, ah ok ok, zinco quindi abbiamo il su 100 ml 7,5% dei valori nutritivi di riferimento. Hanno fatto proprio il compitino, nel senso che volevano, giustamente, ci sta, volevano utilizzare il claim nutrizionale e facendo così l'hanno fatto alla perfezione. Perché quando si vuole utilizzare un determinato claim nutrizionale, per una vitamina o minerale in questo caso, bisogna che sia presente nel prodotto il 15% dei valori nutritivi di riferimento per, diciamo così, i solidi o i liquidi diversi dalle bevande, o il 7,5% dei valori nutritivi di riferimento quando si tratta di bevande. Quindi, detto in maniera più semplice e meno tecnica, se fosse stata la quantità di zinco 7,4% non avrebbero potuto scrivere lo zinco contribuisce alla normale sintesi proteica. Quindi, sicuramente, ribadisco, un prodotto che strizza all'occhio più a chi cerca le proteine per un aspetto legato alla crescita, al mantenimento della massa muscolare e non un prodotto tendente al beauty. Anche la questione collagene legato al beauty è una bella fetta di mercato, ma non per questo prodotto. Poi, chiaramente, si vanta di tutti i vari claim, senza conservanti, senza coloranti, senza zuccheri e senza glutine. Sì, in effetti, è vero, perché la tabella nutrizionale riporta 0,00000, proteine 15,2, sale 0,20 grammi su 330 ml, e poi ci dice qual è la quantità dello zinco. Quindi, ci sta. Tra l'altro, se avessero voluto, questa è un'altra piccola chicca, se avessero voluto puntare sulla questione idrogene e collagene idrolizzato, perché qua abbiamo detto collagene idrolizzato 4,8%, avrebbero potuto scrivere proteine e mettere tra parentesi il metodo di calcolo totale delle proteine, quindi n per 6,25, quindi il metodo Kjeldal fondamentalmente, è scrivere tra parentesi collagene idrolizzato, però così avrebbero dato più attenzione, come ho detto prima, a quell'aspetto più beauty del collagene. Poi vediamo cos'altro si può aggiungere, ma tecnicamente c'è poco altro da aggiungere, sono due gusti, frutti verdi e menta e gusto tropical. Ci sta perché il collagene idrolizzato sciolto in acqua potrebbe non essere piacevole per tutti, quindi è da apprezzare che ci sia questo sapore così fresh. Piccolo consiglio, nel caso in cui non si gradisca troppo, oppure si senta una densità un po' particolare quando si utilizza il collagene, conviene utilizzarlo con bevande tiepide, o comunque a temperatura ambiente e non fredde. Ripeto, avrebbero potuto magari puntare anche di più sulla vitamina C, ma evidentemente, visto appunto il suo coinvolgimento a livello di collagene, e soprattutto per i due aminoacidi idrosiprolina e idrosilisina, ma non era lo scopo sicuramente della bevanda. Visti gli aspetti tecnici, cosa ne penso? Le mie considerazioni personali sono che, allora, io non me la sento di fare assolutamente un dissing contro questo prodotto, anche perché anche i video, i reel dissing, eccetera, fanno ridere una, due, tre volte, però non fanno più ridere. A mio parere, poi, ognuno giustamente è libero di fare come meglio crede. Io lo vedo un, diciamo così, un'arma in più, adesso mi metto dall'altra parte della scrivania, sto ragionando da nutrizionista, quindi da professionista del settore della nutrizione. Sono un'arma in più contro le obiezioni di chi non vuole apportare cambiamenti nella propria alimentazione, nel proprio stile di vita. Mi spiego meglio. Fondamentalmente una delle cose che si riscontra maggiormente è la carenza, non una carenza proteica, mi spiego meglio, è uno scarso apporto proteico durante l'alimentazione quotidiana. Quindi, colazione, classica colazione, spremutina d'arancia con quattro fette biscottate e marmellata, ha gli spuntini la frutta, si tende sempre a stare giù con le proteine. È abbastanza confermabile anche a occhio, nel senso che, purtroppo, l'italiano medio si sta sempre più uniformando ad un fisico skinny fat, vi viene da dire. Quindi, molto spesso, uno dei problemi del paziente è non voler apportare... Da un lato vive una lotta interna al paziente, perché da un lato vuole raggiungere i suoi risultati, i suoi obiettivi e migliorare, ma dall'altro non vuole cambiare le sue abitudini. Quindi, molto spesso capita la classica discussione, aggiungere una quota proteica anche a colazione e poi cercare mille modi. Ma se mangio mezza fetta biscottata in meno e tolgo un cucchiaino? No. Bisogna mettere anche una quota proteica. E, molto spesso, le obiezioni... Mangia l'albume, l'albume non mi piace. Mangia lo yogurt greco, eh, ma lo yogurt greco a colazione non mi piace. Prendi una shakerata di proteine in polvere, eh, ma le proteine in polvere mi hanno detto che rovinano i reni. E allora mangia un po' di bresaola, un po' di fesa di tachino, eh, ma i salumi no. E allora cucinati un pochino di petto di pollo, eh, ma non posso cucinare il petto di pollo a colazione. Perfetto, allora beviti un po' di acqua proteica. Se non vuoi bere neanche l'acqua proteica, evidentemente non sei nelle condizioni mentali di accettare dei cambiamenti, quindi non sei ancora pronto o pronta per affrontare un... il cambiamento che tanto vorresti. Quindi la vedo un po' come una sorta di... di arma in più per riuscire a bypassare questo problema molto italiano dello scarso apporto proteico durante l'alimentazione quotidiana. Comunque, chiusa la parentesi personale, diciamo così, da nutrizionista tutta la prima parte del video è appunto dedicata agli aspetti tecnici spero di aver tolto qualunque curiosità e per oggi va bene così ci vediamo con le prossime fitness tips.